Andrea e Marcello hanno apparecchiato una tavola minimalista che punta tutto sul bianco c'è una tovaglia bianca molto moderna di un bianco ghiaccio e un servizio di piatti in porcellana bianca che è dello stesso bianco della tovaglia c'è poi un cucchiaino non meglio identificato se non come un cucchiaino da te un po lungo troppo corto per essere da bibita troppo lungo per essere da te troppo piccolo per essere da dolce ma il pezzo forte dell'apparecchiatura risiede sicuramente nel centro tavola o qualcuno qui vuole fare una proposta di matrimonio a qualcun altro o questo è proprio il classico centro tavola da banchetto di nozze insomma ragazzi una via di mezzo tra la G e il non opportuno non trovate Elisa e Valentina hanno apparecchiato una tavola per un pranzo all'aperto ci sono tutti gli elementi per esempio le tovagliette di paglia e anche i bicchieri capovolti che si mettono così in modo che non prendano polvere soprattutto che non ci entrino dei piccoli insetti il posto tavola è molto grazioso se non ci fosse la tovaglia di cotone direi che sarebbe quasi perfetto sotto piatto in paglia intrecciata sicuramente in tema col vostro soprannome poi un piatto steso color turchese e infine un piatto fondo bianco decorato con dei fiori rosa sì mi sono accorta sono gli stessi colori che ci sono nelle ortensie utilizzati per il centro tavola molto carino centro tavola diffuso tanti vasetti con all'interno ortensia dal fiore piccolo nelle nuance del lilla del rosa e dell'azzurro proprio le mie preferite giusto e allora perché me le avete rovinate con le spieghe secche?